Sì, non è il mio mestiere, però quando fai gol e soprattutto vinci la squadra è doppiamente una soddisfazione. È servito perché magari ha sbloccato un attimo subito la partita, l'ha indirizzata in un certo senso, poi sì, sicuramente abbiamo sofferto un po' troppo alla fine, potevamo far meglio, potevamo anche noi durante il secondo tempo, abbiamo avuto occasioni per allargare magari il divario con più gol di distacco. L'importante è che alla fine sia riuscito a vincere anche soffrendo. A saperlo si va subito a intervenire per sistemare la situazione. Ci sono state partite, magari di diverse partite, dove dopo il vantaggio abbiamo sofferto un po', oggi dopo il vantaggio abbiamo fatto vedere che abbiamo fatto anche il secondo gol, al primo tempo abbiamo sofferto poco o niente, perché non mi ricordo un'occasione importante sul nostro orrore di un disimpegno regalata. Poi sì, giustamente, lo sappiamo, siamo consapevoli che se si soffre un po' troppo è meglio o chiuderle partite o gestirle con più tranquillità, lavoreremo anche su questo e ripeto l'importante è stata la vittoria. Sì, in carriera ho fatto, come ha detto lei, ho fatto sia davanti alla difesa, sia tre, sia due, più o meno a centrocampo, riesco ad adattarmi, cerco di fare quello che mi viene chiesto. Per quanto riguarda l'integramento sta andando tutto bene, ormai è un po' di mesi che dai problemi che ho avuto inizialmente, perché sono arrivato con già un problema dalla squadra precedente, sono stato fuori un po', poi sono rientrato, ormai sono parecchie partite che gioco anche i 90 minuti e fisicamente si sta bene, siamo pronti, ci fa lavorare per essere pronti i 90 minuti e quindi va tutto bene. No, a me personalmente non mi fa molta differenza, anche Angelo è un bravo giocatore che sa fare più cose e quindi ci integriamo sia se dobbiamo giocare a due, sia se dobbiamo giocare a tre con un altro centrocampista, riusciamo bene o male a integrarci bene. Sì, è la partita di cartello, andiamo in un campo difficilissimo, con una squadra che sta facendo molto bene, consapevoli che possiamo giocarcela come tutte le partite, lavoreremo sugli errori che abbiamo fatto in questa partita, sulle cose buone, sull'avversario e si cercherà di andare a vincere la partita, perché è quello che dobbiamo fare ogni settimana.